vedete i partecipanti Alberto Giulia Cameriere Cattivo Fabox Matteo Remus che è dietro eccolo qua lui è il fotografo vai col tappo non si fanno le fotografie normalmente non vengono col tappo Matteo la tua Marilu serissima si parla con Valerio eccoci Valerio la tua Wally l'Elena la Silvia che fotografa e poi aspettiamo gli altri ma guardate finalmente è arrivato anche lui senza però tutte le donne che doveva portare lui doveva portare milioni di donne ma non è arrivato da solo e si è messo subito vicino a Marilu e si è messo subito vicino a Marilu come mai? ecco lì ecco lì ecco lì ecco lì ecco lì c'è bene grazie Grazie a tutti.